il basirisico animale mistico sta chiuso bene dentro la sua scatola quando invogliano si mette in tavola e ci si mangia in tanti per un po' con il contorno di carramatini ci sta molto bene dicono in carciacca perchè esalta la sua indole strategica e dal retrogusto quel suo non so che essendo un rettile con crista e rettile corazze e camberi fanno per lui dategli molte bandierine al giorno e non morderà mai il basirisico animale autentico si formalizza perchè alle sue regole scopre le carte solo in casi limiti perchè alla fine vince sempre lui fa indigestione di carramatini che poi digerisce dentro la sua scatola di cana uguali tanto è tutta plastica e non pretende tanta comparia se fosse un semplice gioco da tavola gli basterebbe essere imparato ma il basirisico animale e dunque va domesticato così almeno una volta vinco io